Grazie a tutti, abbiamo portato i medicinali, abbiamo portato i medicinali, abbiamo 20 anni circa. Stiamo in un bel bosco, c'è un piccolo accampamento, mi sono andato a riprendere un bel bosco, è nasciato un poco, abbiamo portato i medicinali, adesso siamo sciocati e abbiamo andato in un altro accampamento. Sì, c'è un bel modo per indire, sono quelle che si vada per tutto, le macchine non possono andare, i veloci sono stati anche i trolli, proprio di 100 minuti da, c'è un proprio intervento e noi attraverso i campi siamo accassati. La situazione è diciamo più drammatica, c'è tanta tanta gente, c'è tanta gente, c'è tanta gente, c'è tanta gente. Grazie a tutti.